Come è vero? Come è vero che viviamo in una situazione di degrado culturale e di illegalità diffusa, da fare impallidire tangentopoli mi verrebbe quasi da dire, allora devo dire che non è per niente fuori luogo porsi questo interrogativo e dire che parlare di etica come prodotto del futuro è del tutto pertinente, anzi direi che è doveroso e mi verrebbe anche da dire ma lo vedremo successivamente assolutamente conveniente. Per le imprese, allora direi che questi punti interrogativi potrebbero essere sicuramente tolti, io sono convinto che l'etica va assolutamente recuperata se vogliamo fare buoni o ottimi risultati, meglio ancora. Tanto è vero che, tanto più che l'etica è un prodotto che è assolutamente trasversale a tutta l'attività dell'azienda e quindi va a influenzare assolutamente anche la qualità dei prodotti stessi. Io sono assolutamente convinto che un prodotto può essere di alta qualità solo se ha anche un forte contenuto etico, a maggior ragione quando si parla di cibo, qui siamo nel regno del cibo e quindi quando si parla di cibo il fatto di comportarti in una certa maniera nella produzione di cibo è assolutamente fondamentale, perché c'è di mezzo la salute della gente. Cito come esempio, tra gli ultimi, il caso drammatico di decine di persone che sono decedute in Cina per latte alla melanina, per esempio. Oppure il caso sempre proveniente da quel paese di bambole al piombo che hanno intossicato bambini. Quindi stiamo parlando di cose veramente che hanno dei riflessi assolutamente seri e importanti. Allora se tutto questo è vero, ho pensato che potesse essere interessante condividere con voi l'esperienza che l'atteria soresina sta portando avanti da anni e che trovo assolutamente interessante. E' chiaro, è facile che io la trovi interessante, ma soprattutto credo che ciò è dimostrato poi dai risultati che poi andrò a presentarvi. Latteria soresina ha fondato la propria attività, la propria filosofia aziendale su due leve che consideriamo fondamentali, che sono due leve valoriali, che consideriamo assolutamente centrali per qualunque tipo di attività. L'una è quella del cambiamento, quindi la capacità di gestione del cambiamento, dall'altra parte oggi stiamo parlando di innovazione, è chiaro che non c'è innovazione se non c'è da primo un cambiamento culturale nelle persone. E l'altro è il portare avanti la propria attività dal punto di vista etico. Partendo da un presupposto scontato, ma assolutamente fondamentale, che le aziende crescono se crescono le persone dal punto di vista umano e professionale. E sottolineo l'aspetto umano, che secondo me è assolutamente centrale, perché una persona che si sente motivata e parte di un progetto, evidentemente ci mette qualcosa in più in termini di passione e di amore, che è la cosa che permette di fare le cose bene, meglio del tuo concorrente. E questo è certamente un aspetto di tutta rilevanza. D'altra parte credo che condividiamo tutti, che viviamo in una società nella quale sono venuti meno i riferimenti classici, che erano gli oratori, che erano i partiti con le loro ideologie, che era la scuola fatta in una certa maniera, la famiglia in una certa maniera, e paradossalmente le persone hanno bisogno di sentirsi parte di una squadra che condivide dei valori veri, seri, importanti, per cui si possa lottare per degli obiettivi comuni. E questa cosa, credetemi, è una cosa che mette nell'azienda un'energia incredibile. Le persone che, motivati in questa maniera, mettono in azienda un'energia che ti permette di raggiungere davvero dei risultati strabilianti. Il primo pilastro valoriale, ma vado molto velocemente, perché credo che ormai se ne parla da tempo, è quello della capacità di gestire il cambiamento. È evidente che se non cambiamo insieme al mondo che cambia velocemente intorno a noi, siamo dei disadattati a livello personale, ma soprattutto lo siamo come imprese, come aziende. L'analogia persone-aziende per me è automatica. Le aziende sono fatte da persone, quindi tutto quello che vale per la persona vale per l'azienda. Un'azienda positiva quando ha delle persone positive. Un'azienda è invece negativa quando, soprattutto a capo di tre nati, ci sono persone negative. Un'azienda negativa non può rimanere nel mercato, non ce la farà mai. Rispetto al discorso cambiamento, vorrei sottolineare, al di là delle varie citazioni che credo avrete già in qualche modo viste e lette in varie situazioni e circostanze, sono molto usate, questo aspetto qua che a mio avviso è assolutamente centrale, che dirlo a parole è facile, realizzarlo è molto più complicato, perché dentro di noi c'è una naturale resistenza al cambiamento che è il nostro istinto di sopravvivenza. Noi tendiamo a rimanere nella quella che gli psicologi chiamano la zona di comfort, che è quella zona nella quale si tendono a fare le solite cose, a percorrere gli stessi sentieri, nella quale ci sentiamo protetti e dove ci sembra di non correre rischi. In realtà non ci si rende conto che è proprio lì che si corrono i rischi maggiori, perché quando siamo a livello personale, a livello aziendale, nella zona di comfort, vuol dire che stiamo bruciando ricchezza, vuol dire che stiamo bruciando quella ricchezza che abbiamo costruito quando ci siamo messi in gioco. Questo, ripeto, vale a livello personale e vale a livello, a maggior ragione, a livello aziendale. Oltretutto, ormai il cambiamento è andato oltre. Come concetto ormai non si parla più di cambiamento, ma di discontinuità, che è quello che stiamo vivendo nei mercati in questi ultimi anni. Un cambiamento rapido, non programmabile, ancora più difficile quindi da controllare e da digerire e da trasformare in opportunità. Per quanto riguarda l'etica, prima di tutto è importante intendersi su cosa si intende etica. Io ho sintetizzato in un concetto molto popolare, ma che ritengo estremamente efficace. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Tradotto in parole ancora più brutali, se non vuoi essere fregato, non fregare. Se non vuoi fregare gli altri, se non vuoi essere fregato, non fregare gli altri. E l'altro concetto è quello del rispetto delle regole che democraticamente ci si è dati. Ho aggiunto, ovviamente, democraticamente, perché se siamo in una società democratica, potrei anche non condividere le regole che questa società mi impone, ma devo accettarle. Diverso è il fatto, se fossimo in una situazione di dittatura, nella quale mi vengono imposte delle regole che io non condivido, allora sarebbe esattamente il contrario, sarebbe eticamente corretto, voglio dire, reagire a norme e a condizioni che non ritengo giuste, e quindi non applicabili. Questa slide mi serve, invece, per sfatare un concetto comune che è quello di pensare che quello che succede, per esempio, nella vita privata non influenza quello che succede nella vita lavorativa o quello che succede nel sociale non influenza quello che succede nelle altre aree della vita. In realtà io credo che sia un grande errore, non è vero che è così. Noi ovviamente non siamo fatti a compartimenti stagni, siamo un'unica entità, e questa metafora significa semplicemente che nel momento in cui noi compiamo un comportamento non eticamente corretto è come se mettessimo dentro il nostro liquido vitale una macchia di inchiostro che come fosse una vasca di liquido trasparente tende in qualche modo a rendere meno trasparente quel liquido. È chiaro che l'opacità di quel liquido è direttamente proporzionale al numero di comportamenti non etici che ci mettiamo, mettiamo dentro di noi, e quando il liquido non è più trasparente facciamo fatica a capirci e perdiamo sostanzialmente di efficacia. Questo vale quanto avvenga nella vita privata, quanto eventualmente questi comportamenti avvengano a maggior ragione in altri ambiti. E quindi queste questioni hanno delle ricadute, non stiamo parlando di filosofia, quello che spiego quando facciamo formazione ai nostri dipendenti perché di questo parliamo oltre che delle questioni tecniche evidentemente, stiamo parlando di cose maledettamente concrete, che hanno delle ricadute pazzesche in termini di ritorno economico. E questo è il concetto da aver ben chiaro. Non stiamo parlando di filosofie astratte che stanno in alto. Quando si parla della vita delle persone vuol dire parlare di cose importanti ma che ti danno dei ritorni altrettanto importanti. Dicevo, nel momento in cui si tiene un comportamento non etico si perde di efficacia nella nostra azione. E questo è assolutamente evidente perché nel momento in cui io mi comporto male perdo autostima rispetto a me stesso e rispetto agli altri e quindi divento poco efficace rispetto a quello che sto facendo e proponendo. Cito l'esempio di un formatore che è venuto da noi a parlare i dirigenti proprio di questi aspetti un po' di anni fa e aveva fatto questo esempio per chiarire bene questo aspetto. Dice, io sto arrivando qui da voi stamattina per tenere questa mattinata sui valori e sull'etica sto parcheggiando nel parcheggio dell'azienda qua davanti sta piovendo come oggi non vedo bene inciampo nella macchina lì a fianco e procuro un danno di un certo rilievo. Sono indeciso qualche secondo poi mi guardo intorno vedo che nessuno mi ha visto e faccio il furbo non metto il bigliettino mi sposto la macchina e vado a parcheggiare da un'altra parte. Poi entro in sala e mi metto a parlare a voi di etica. Già solo questa contrapposizione rispetto a quello che ho fatto e rispetto alle cose che sto dicendo genera in me un certo disagio e mi sento non così concentrato e efficace rispetto alle cose che devo dire. Non solo ma a un certo punto una persona in sala comincia a guardarmi e mi sembra in modo strano e comincio a auto in qualche modo convincermi che mi abbiano visto. E quello continuo a guardarmi ma questo qua evidentemente non è per quello. e io continuo di nuovo a perdere concentrazione e veramente il mio livello di efficacia cala drasticamente. Allora questo è un esempio per dire come la perdita di efficacia si trasforma poi in scarsi risultati come concetto generale. Devi chiedere di accelerare un po' questa parte così altrimenti non abbiamo... Giusto. Perfetto. Questo l'abbiamo già detto. ecco questo è secondo me importante preferisco magari rimanere sugli aspetti generali e poi... No perché poi arriviamo all'azienda e questo c'è Certo. Quello che io voglio assolutamente dire è che l'etica è trasversale a tutta l'azienda. Se noi immaginiamo l'azienda come una catena che ha dei punti deboli come tutte le aziende legate a un elemento piuttosto che a un altro ebbene l'etica è il buon il buon materiale con cui è fatta quella catena perché io posso avere una bellissima catena fatta di anelli di grandi anelli che sembrano robusti ma se è fatta con un materiale scarso o friabile che non tiene ho messo in piedi un'azienda che potrebbe non reggere. Questo è il concetto. L'atterio soresina quindi è inutile dire che tutte queste tematiche è profondamente cambiata e velocemente cambiata insieme al mondo che cambia rispetto alle regole si è orientata decisamente al mercato finale all'inizialmente produceva dei semi lavorati abbiamo fatto una serie di acquisizioni e fusioni negli anni abbiamo portato avanti una politica di marca di un certo livello in questi ultimi 8-9 anni attraverso comunicazione televisiva eccetera eccetera ovviamente tutto quello che viene adesso è legato a tutti questi concetti che ho espresso alcuni minuti fa quindi e questo credo che quello che ho espresso in questa slide è assolutamente centrale perché se comportarti in una certa maniera ti porta a fare risultati economici migliori allora diventa davvero conveniente oltre che opportuno dal punto di vista etico andare in quella direzione valori di latteria sorresina sono quelli che sono conseguenti a quanto ho detto questa slide vuole semplicemente ho visto che comunque in circolazione anche in altre presentazioni che un'azienda è costituita da capitali materiali che sono quelli visibili quelli che sono in bilancio i capitali materiali che sono altrettanto importanti che stanno sotto e che sostengono l'azienda che sono quelli dei valori intangibili che sono quelli che fanno la differenza l'affidabilità eccetera rispetto a tutto ciò latteria sorresina ovviamente ha portato avanti poi una metodologia di approccio alle questioni legati per esempio alla formazione all'informazione che è continua metodica e costante in azienda su temi di questo tipo e ovviamente poi su temi invece molto più tecnici e generali selezione ecco invece la cosa che può essere interessante è quella per esempio che ci siamo dati delle regole per evitare clientelismo e parentopoli non è possibile assumere parenti degli amministratori non è possibile assumere parenti dei dirigenti non è possibile assumere parenti addirittura degli operai per evitare che si formino dei gruppi familiari di potere all'interno dell'azienda e sono solo degli esempi eccetera eccetera andiamo alla strategia così poi vediamo anche sì ok andiamo pure avanti ecco un'altra cosa che ritengo assolutamente fondamentale ah perché ho solo tre minuti le persone il criterio di selezione delle persone al primo posto mettiamo l'onestà puoi avere una persona capacissima ma se è un disonesto non va bene quindi deve essere onesto e poi capace cultura aziendale l'abbiamo detto andiamo pure allora velocemente strategia è una strategia legata alla necessità di crescere di puntare a marca di innovazione e servizio internazionalizzazione vediamo un po' i risultati che credo sono interessanti questo è l'incremento del fatturato dell'azienda negli ultimi anni nel 2011 abbiamo fatturato 274 milioni quest'anno ne fattureremo 310 abbiamo di recente effettuato un'acquisizione a Milano il latte Milano che ci porterà a fatturare nel quando sarà a regime 350 milioni abbiamo circa 700 dipendenti fra diretti e indiretti questo è il fatturato estero che è uno degli assi strategici dell'azienda negli ultimi anni abbiamo incrementato del 400% e esportiamo in 60 paesi del mondo ho voluto inserire anche uno slide che riguarda il valore patrimoniale dell'azienda perché è chiaro che si può distribuire valore e crescere non creando però valore patrimoniale per l'azienda e questo è stato l'incremento in questi anni abbiamo aumentato il numero di dipendenti quindi assolutamente in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo intorno a noi stiamo facendo comunicazione televisiva come dicevo quindi politica di marca per quanto riguarda l'innovazione del servizio qui sarebbe il tema di oggi siamo in un ambito che è quello dei prodotti tradizionali siamo i primi produttori di Granapadano in Italia di Valpadana altrettanto dopo da questo punto di vista è chiaro che la sfida per noi è quella di innovare nella tradizione cioè riportare a galla gli antichi valori come novità e credo che è una sfida assolutamente interessante che stiamo in qualche modo portando avanti in maniera molto di grande soddisfazione con grande soddisfazione i prodotti sono ovviamente aumentati dal 2001 ad oggi oggi abbiamo 138 prodotti questi sono gli investimenti effettuati negli anni più o meno l'incremento della produttività importante voglio semplicemente farvi vedere queste due tavole che sono molto legate alla cultura aziendale al coinvolgimento delle persone nel progetto aziendale quindi alle motivazioni la percentuale di malattia è chiaro che una persona che viene a lavorare volentieri si ammala di meno una persona che si sente coinvolta nel progetto e diventa il suo progetto viene a lavorare con uno spirito completamente diverso vedete cosa è successo e questi sono tanti denari in meno in più anzi che rimangono nelle casse per quanto la stessa cosa per quanto riguarda gli infortuni altri due dati veramente credo interessanti sono le perdi su credit considerando che oggi come ben sapete come sanno gli uomini d'azienda non è difficile vendere è difficile portare a casa i soldi le perdi su credit sono veramente a livelli eccezionali secondo me come d'altra parte anche i giorni medi di pagamento siamo a 65 giorni considerando che lavoriamo con il 70% di grande distribuzione credo che è un dato anche questo notevole e interessante e questo è il risultato finale per chi non è per l'ambiente sintetizzo dicendo che abbiamo prodotto circa il 10% di utile in questi ultimi 10 anni che è il prezzo in più pagato i nostri soci conferenti latte rispetto al prezzo di mercato del latte magari non è un concetto chiaro per voi che non siete nell'ambito ma è in estrema sintesi il livello di redditività dell'azienda detta in termini mi verrebbe quasi da dire agronomici vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti